Sì, è il miglior risultato che potevamo ottenere, riuscire a essere riusciti a levarsi di torno finalmente la peggior famiglia di industriali che gestiva il più grande, importante e remunerativo asset pubblico, le autostrade, è un risultato che diciamo chiaramente l'abbiamo ottenuto solo perché c'era una forza politica chiamata Movimento 5 Stelle che non ha mai mollato e questo significa che da domani le autostrade saranno gestite da una società pubblica che da domani non conteranno solo i soldi ma conterà il servizio, la qualità del servizio, l'importanza della manutenzione, l'importanza della sicurezza si abbatteranno i pedaggi anche dal 20% aumenterà la sicurezza e penso che tutti i cittadini debbano essere contenti di questo straordinario successo ottenuto con fatica perché erano forti questi qua, perché pagavano tutti, hanno sempre pagato tutti, hanno sempre banchettato con tutti e sono sempre stati difesi dalla politica perché hanno finanziato tutti, tutti, tutti i partiti da tanti anni, forse decenni eccezione fatta al Movimento 5 Stelle e la nostra presenza ha portato un grande Presidente del Consiglio ad essere forte, forte, intransigente e aver portato a casa stanotte il risultato per il bene di tutto il Paese, non vedo l'ora di veder cacciati Benetton dalle autostrade italiane e di tornare il simbolo tricolore dell'Italia su 3.000 dei 6.000 chilometri che saranno meglio, mille volte meglio gestiti da questi signori